ehi la ma tu sei uno che scioppa si sei uno che scioppa non te ne vergognare lo sappiamo non ti preoccupare anche io sono uno che scioppa ogni tanto le mutande ragazzi oggi un nuovo video in cui vi spiegherò come comprare su hardstone le bustine i vostri pacchetti a un prezzo un pochino più basso per farlo cosa bisogna fare bisogna utilizzare i fabulosi amazon coins se non sapete cosa sono gli amazon coins male ma tanto c'è il vostro booty qui che ve lo spiega facile facile allora gli amazon coin sono una moneta virtuale di amazon con cui si possono fare gli acquisti su le app dappertutto sempre passando da amazon però quindi è una è una moneta virtuale lo vedete anche a schermo 300 amazon coins sono 3 euro 500 5 euro mille 10 euro 25 5500 50 euro 10.100 euro e 50.500 euro mi sono un po impappinato ma più o meno è così come vedete c'è il risparmio nel comprare questi tagli di coin è ovvio che se tu compri quello da 300 risparmierai 3 centesimi se tu compri quello da 50 mila quindi 500 euro in monete amazon le vai a pagare molto meno 380 con risparmio di 120 euro ora dove sta la cosa figa che tramite questi amazon coins si possono comprare i pacchetti su arson quindi si possono comprare fare gli acquisti anche su arson c'è da seguire una procedura ma adesso ve la spieghiamo siamo qui apposta in più cosa ancora più importante se voi passate dal link che è in descrizione il taglio da 5 mila non solo lo pagate ancora meno perché lo pagherete 41 euro invece 43 50 perché se voi cliccate sul link in descrizione via vi si aprirà questa pagina quindi 5 mila amazon coins vanno a costare 41 euro un risparmio comunque notevole cioè quasi del 10 per che non è male ok ragazzi quindi per ora vi spiegherò il procedimento che non è neanche troppo complicato per utilizzare questi amazon coins sul vostro account arson e risparmiare allora punto numero uno avete un dispositivo android bene utilizzerete il vostro dispositivo android non avete un dispositivo android va bene uguale andate su internet scrivete bluestacks e andate scaricare un emulatore di android che potete installare sul computer bluestacks è abbastanza è comodo da usare facile quindi fatelo fatelo pure adesso è semplicissimo google a te trovate è il primo lo scaricate lo downloadate lo aprite e vi troverete una immagine una cosa come questa a questo punto questo era solo per quelli che non hanno un dispositivo android se avete un dispositivo android ci riprendiamo qua tutti insieme e cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo dobbiamo installare hardstone tramite la app amazon app store non si può installare tramite google play se tu lo installi tramite google play non ti fa utilizzare gli amazon coins trovare un installare l'amazon app store è abbastanza facile voi andate sul vostro browser che è chiaramente installato sul sul vostro dispositivo emulatore di android avete un'altra tab scrivete non andate dal google play vedete che lui via poi direttamente google play voi non ci andate andate google ho cercato google su google succede e cerchiamo amazon app store come vedete io l'ho già cercato lo andiamo a ricercare è il primo link voi cliccate sul primo link e vi si aprirà questa pagina ora in realtà a me poiché io l'ho già installato non si aprirà questa pagina vi si apre una pagina come questa molto semplice voi cliccate su scarica e ve lo comincerà a downloadare da solo a questo punto una volta che ve l'ha downloadato e installato voi dalla home troverete il vostro amazon app store qui adesso che avete l'amazon app store dovete installare hardstone tramite questo amazon app store attenzione se sul vostro dispositivo android avete già installato hardstone disinstallatelo prima di fare questa procedura piccolo inciso apriamo l'amazon app store come vedete questa è la mia situazione qua sono collegato io ho 6.000 coin perché anche io ho compiato i coin dal mio stesso link perché si risparmiava e da qui da circa scrivete hardstone lo trovate e lo installate andate a cliccare installa e ve lo installerà sul vostro dispositivo che sia bluestacks o il vostro cellulare app insomma tutto ciò quello che cacchio vi pare l'importante che sia android installate qua downloadate sta facendo download vediamo quando aveva finito sta facendo l'installazione in realtà come ben sapete l'installazione non si ferma qui perché poi hardstone leggermente grandino quindi ci metterà un po l'andiamo ad aprire e come vedete tac siamo siamo dentro ora è quasi tutto fatto ci rivediamo appena appena ha finito 1.9 giga benissimo ci siamo questo è il mio account hardstone grazie dei nerf li conoscevo già andiamo qua andiamo al negozio e adesso se io vado al negozio e acquisto qualcosa dovrebbe esserci l'opzione di utilizzare gli amazon coins come vedete una busta to 40 buste a 49 99 posso fare acquista e in automatico mi si aprirà questa schermata e io potrò scegliere se utilizzare 50 euro oppure 4.999 amazon coins che tramite il mio link avete pagato avete pagato 41 euro invece che 49 99 quindi un risparmio di ben 9 euro per le buste ovviamente io non voglio comprarle mi voglio tenere i 6.000 amazon coins per per cose più avanti e ragazzi questo è tutto vi ho detto tutti i passi facciamo un piccolo riassuntino allora passo 1 copiate gli amazon coins dal link qua sotto passo 2 avete android sì bene non avete android scaricate bluestacks passo 3 da bluestacks o dal dispositivo android scaricate l'amazon app store passo 4 perché sono 5 passo 5 scaricate dall'amazon app store art passo 6 andate a comprare quello che vi pare su art con gli amazon coins facile per questo è tutto ragazzi fatemi sapere se la guida vi è piaciuta se manca qualcosa se ci siete riusciti soprattutto utilizzare questi amazon coins e noi ci vediamo lunedì con un video frizzanti frizzanti